Hai acquistato un servizio di fatturazione elettronica di Aruba, ma non ricordi lo username e la password per accedere al pannello? Nessun problema! Potrai facilmente recuperare lo username e creare una nuova password con pochi semplici passaggi. Vediamo come. Collegati alla pagina fatturazioneelettronica.aruba.it e scegli il pulsante Non ricordi lo username? Lo username di fatturazione elettronica è così composto. Per fatturazione elettronica, Aruba, seguita dalla propria partita IVA. Per fatturazione elettronica solo ricezione, Aruba, seguito dal proprio codice fiscale. Per fatturazione elettronica per commercialisti, è scelto dall'utente in fase di attivazione dell'account. Su Recupero username, inserisci la tua partita IVA o il tuo codice fiscale. I campi sono alternativi tra loro. Dovrai compilarne solo uno. Esegui il codice CAPTCHA e vai su Prosegui. Riceverai una comunicazione contenente lo username smarrito. Ora puoi creare una nuova password. Clicca su Vai all'accesso per tornare alla pagina di autenticazione del pannello e scegli Non ricordi la password? Alla schermata Fatturazione elettronica Reset password, inserisci il tuo username e clicca su Reset password. Riceverai un'email contenente le istruzioni per creare una nuova password. Nella comunicazione troverai un link temporaneo per accedere alla pagina dove creare una nuova password. Ricorda, il link è valido 24 ore. Clicca sul pulsante Reset password presente nell'email. Ti collegherai alla pagina Reset password. Inserisci la nuova password e confermala nel campo Ripeti password. Deve rispettare i criteri di sicurezza indicati nella schermata. Se ogni criterio è rispettato, visualizzerai una spunta verde in corrispondenza degli stessi, altrimenti resteranno neri. Ci siamo! Procedi scegliendo Salva e prosegui. A questo punto accedi con le tue credenziali e usa il pannello di fatturazione elettronica di Aruba.